Nell'opuscolo esaminiamo le scritture, ogni giorno, nel 2019, troviamo a distanza di pochi giorni citato due volte questo versetto. Il versetto viene riportato così come veniva tradotto nella traduzione del Nuovo Mondo, prima del 2017. Chi trattiene i suoi detti possiede conoscenza e l'uomo di discernimento è freddo di spirito. Ora invece è tradotto così, chi ha conoscenza trattiene le parole e chi ha discernimento mantiene la calma. Quando ti viene richiesto di mantenere la calma? Quando ti sei accorto che non hai cambiato le pastiglie dei freni e, guarda caso, stai per andare fuori strada in un burrone? Quando tua moglie ti assilla ancora una volta con quelle richieste assurde? Quando tuo figlio sta fregnando e vorresti dormire e che domani ti devi alzare alle 6? Quando è che ti viene chiesto di mantenere la calma? Suggerimento della nostra torre di guardia. A commento di questo versetto viene detto Dobbiamo tenere sotto controllo i nostri sentimenti per evitare contatti non necessari con familiari disassociati. What? Sì, hai detto bene. Evitare contatti non necessari con familiari disassociati. Ma com'era quella storia dei legami familiari che restano invariati, che solamente quelli spirituali si interrompono? Certo, è vero, infatti solamente quelli spirituali si interrompono, quindi però bisogna evitare contatti non necessari. Però mantenere i legami familiari al tempo stesso è chiaro, no? No. Però andiamo avanti. Ci sarà più facile esercitare padronanza in situazioni del genere se ricordiamo che questo modo di agire è in armonia con l'esempio di Dio e con i suoi consigli per gli acquisti. Andiamo a vedere chi mette in pratica in un esempio che ci fornisce la Torre di Guardia che troviamo nell'edizione per lo studio nel febbraio 2016. Andiamo a vedere. Ad esempio, una sorella di nome Anne ricevette una telefonata dalla madre disassociata che voleva andare a trovarla perché il fatto di essere isolata dalla famiglia la faceva soffrire molto. Beh, te credo. Anne fu molto turbata da questa supplica della madre, attenzione, stava per cedere, ed è promise che le avrebbe risposto per lettera... Tante grazie. Prima di scriverle, Anne riflettè su alcuni principi biblici citati come al solito alla membro di Segugio. Cioè, allora, posto che la madre non è l'anticristo, quindi due Giovanni lo togliamo proprio, fino a prova contraria. L'altro versetto che viene sempre citato in maniera rigorosa e stretta al discorso di non mangiare. Allora, carissimi, dobbiamo invitare Gesù a leggere Corinzi perché forse gli sfugge questo particolare del fatto di sedersi a tavolo nei peccatori. Non si fa, non si fa Gesù. Quante volte te lo devo dire? Ah, poi con i pubblicani. I pubblicani sono proprio idolatri. Il pubblicano non era in viso al popolo ebraico perché spillava soldi e si arricchiva sull'oro. Questo era l'ultimo degli aspetti. La cosa peggiore è che, essendo collaborazionista con l'impero romano, era un'idolatra. Un'idolatra, quindi tradiva l'identità del popolo ebraico, che era la cosa più preziosa del loro per un ebreo. Quindi sedere a gomito a gomito con il pubblicano era una delle cose più tramenti che si potesse fare. Gesù, però, che bibbiai? Vatti a leggere Corinzi, per favore. E poi smettite di fare queste cose, e santa cielo. E' inutile allora che poi scriviamo non sedersi. I versetti vanno capiti anche e soprattutto nel contesto, non estrapolati e usati così come delle accette. Per tagliare poi dei legami. A me, quello che interessa, se permettete, è l'esempio di Gesù Cristo. E aggiungo, peccato, che parlando del libro dei proverbi, chi ha scritto quel commento non abbia buttato l'occhio un pochino prima. Proverbi, capitolo 17, sempre, versetto 17, che dice, un bellissimo versetto. Il vero amico ama in ogni tempo, e si dimostra fratello nei momenti difficili. Amico, amica dei testimoni di Geova, è proprio il momento del dubbio, quello in cui non devi abbandonare tuo fratello, tua madre, tuo padre. Buona continuazione di ricerca a tutti. E buonanotte.